ci vuole ben più di un anno perché un'ananas raggiunga la perfetta maturazione l'uomo del monte sa quando è il momento giusto l'uomo del monte ha detto sì ed è proprio lui ad assicurare che gli ananas siano raccolti e messi in scatola il giorno stesso per conservare quel gusto del monte così speciale del monte sceglie il meglio per te